Prina, Minucci, Toninelli, ci siamo, Minucci ancora non riesce a votare, bene, dichiaro chiusa la votazione, 313 favorevoli, 103 contrari, la Camera approva, se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 3, ci sono interventi, no, dichiaro aperta la votazione. Lavagno. Qui abbiamo Bordo Franco, c'è il tecnico, abbiamo lì il collega, Lauricella. Qualcun altro, non mi pare, Burtone. Alfreider, Cira C, bene, Burtone ancora no, dichiaro chiusa la votazione, 316 favorevoli, 102 contrari, della Camera approva, articolo 4, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Occiuto, Montroni, Montroni, Folino, Folino, Malisani, Malisani, Marotta. Qualcuno, qualcuno riesce a votare, no, bene, dichiaro chiusa la votazione, 310 favorevoli, 104 contrari, la Camera approva, articolo 5, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Dall'Ai, Dall'Ai, Patriarca.